musica weee bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi ci siamo la settimana numero 4 è arrivata con lei le sfide per guadagnare un bel po di stelline per il pass battaglia e ovviamente 5000 punti esperienza al raggiungimento di 4 su 7 sfide da completare in questo video ragazzi vedremo dov'è il punto esatto della stellina segreta che si trova tra una pompa di benzina una stazione dove c'è una pompa di benzina un campo da calcio e una montagna stunt ovviamente ragazzi questa è la pompa di benzina questo è il campo da calcio e questa è la montagna stunt per la precisione ragazzi la stellina si dovrebbe trovare vicino ad un albero un po semi abbandonato dovrebbe essere un albero in questa posizione andiamo a prenderla assieme intanto ragazzi ve lo ricordo se ancora non l'avete fatto che in alto a destra troverete un bel punto esclamativo con lo shop ufficiale dello zio xyuder e la maglietta tu non hai visto niente andate a dargli un'occhiatina mi raccomando se vi interessa sapete cosa fare vediamo ragazzi vediamo 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 un pochettino di trovarla e di prenderla dovrebbe scendere altra gente con noi quindi in teoria non dovrebbe essere così faticoso trovarne l'esatto punto ancora due secondi di pazienza intanto io vi ringrazio tantissimo per avere guardato in così tanti i video leak relativi alla nuova neve che arriverà prestissimo su fortnite dove deve essere questo l'alberello deve essere questo vediamo se ho ragione ed eccola qua ragazzi troviamo ragazzi la stellina del pass battaglia speriamo che non ci ammazzino io la prendo loro la prendono e direi che c'è un sacco di gente ragazzi che se la balla di brutto noi vi ringraziamo noi tutti che siamo qua vi ringraziamo per affare che cosa sta succedendo per avere guardato questo video vi mando un bacione grande e ci vediamo in live ciao ciao